Mirabilmente rievocando questa battaglia, l'associazione del 215, la presidente Patrizia Francioni, la sua famiglia e anche e soprattutto Paolo Cicciani che da lassù ci guarda e che due anni or sono era con noi a Pizzo Calabro quando andavamo alla manifestazione appunto a delegazione Tolentinati. Naturalmente ringrazio le delegazioni di Occhio Bello, di Pizzo Calabro e tutti coloro che dalla Francia, dall'Altia sono venuti per questa rievocazione. È un momento di storia bellissimo ma è un momento di paese, in peso come Italia, bellissimo perché il nostro orgoglio deve tendere a far vedere quanto siamo bravi e quanto la storia ci abbia consegnato qualcosa di importante nei valori che dobbiamo custodire. Quindi fin da stamattina, fin dagli anni, ho preso omaggio.